Camer, ristrutturazioni di interni, Via Aldomoro 38, Sondrio. Tempo di risultati del weekend calcistico appena concluso, il primo del mese di dicembre. Partiamo dal campionato di Serie D, sedicesima giornata di andata. Caravaggio Seregno 1-1, Castellanzese Brusaporto 0-3, Folgore Caratese Virtus Bolzano 2-0, Inveruno Villavalle 4-3, Legnano Virtus Ciserano Bergamo 2-1, Levico Terme Arconatese 3-0, Milano City Drò Altogarda 2-2, Nibionogiono Tritium 1-1, Ponte San Pietro Prosesto 0-1, infine Scanzorosciate Sondrio 1-0. Il Sondrio perde la partita e rimane a 25 punti. In promozione tredicesima di andata, Arcadia Dolzago Muggio 1-2, Arcellasco Altabrianza Tavernerio 1-2, Brianza Cernusco Merate Casati Arcore 3-0, Cabiate Viberonchese 1-2, Castello Cantù Speranza Grate 2-1, Concorezzese Aurora Calcio 7-0, Lissone Barzago 2-1, Luciano Manara Colico Derviese 2-1. La Colico Derviese è a 15 punti in classifica. La prima categoria, tredicesima giornata di andata, Verbenno Albosaggia Ponchiera 1-2, Calolfi Accorte Costa Masnaga 1-3, sospesa la partita chiavennese Galbiate, Giovanile Cantese Cosio Valtellino 3-2, Missaglia Maresso Bellagina 3-1, Olimpia Grenta Polisportivo Rotorio 2-B 1-0, Olimpic Morbegno Arsero Vagnate 0-1, Vedugio Tiranese 3-0. In classifica, in prima posizione 29 punti per Olimpia Grenta, 24 Missaglia Maresso e Olimpic Morbegno, 23 Vedugio e Arsero Vagnate, 21 Albosaggia Ponchiera, 19 Costa Masnaga e Galbiate, 18 Giovanile Cantese e Bellagina, 16 Berbenno, 13 Polisportivo Oratorio 2-B, 12 Cosio Valtellino e Calolfi Occorte, 5 Chiavennese, 3 punti La Tiranese. Infine il campionato di seconda e terza categoria, tredicesima di andata, Atletico Cosio Ardeno Buglio 0-3, Dubino Bormiese 4-2, Grosio Valchiavenna 4-2, Piantedo Sondalo 8-0, Polisportiva Villa Delebbio 3-0, Livigno Pratacalcio 1-3, Valmalenco Penta Piateda 3-0, riposava la Talamonese. 35 punti in classifica per Valmalenco, 30 Grosio, 28 Dubino, 23 Ardeno Buglio e Talamonese, 21 Pratacalcio, 19 Polisportiva Villa, 17 Valchiavenna, 16 Bormiese, 15 Delebbio, 14 Penta Piateda, 13 Atletico Cosio, 12 Piantedo, 8 Livigno, A 0 il Sondalo. È tutto, vi ricordo che potete trovare risultati e classifiche sul nostro sito radio.tsn.tv nell'area sport.